Come avresti i giornali ideali? Non male, non male. Stasera sono molto resi. Sono più che normali stasera. Vabbè, ora è tornata. Ecco qua, il sangio per me. Grande dico. Alla grande, ragazzi. E' bello? Ma lo hanno? C'è quanto è? Numero, numero uno, tra un uomo. Si entra il numero... Ehi! Ehi! Guarda, guarda. Va bellissimo. C'è gli amicocchi? Ciao, ciao. Comunque mi ha finito? Cristina. Cristina, da dove vieni Cristina? Cristina, di Milano. Mi viene dalla provincia di Milano. E' bravo. Sono straniera. Che straniera? Milano, 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 in Italia. Ascolta me, dopo cosa fai nella vita? Un biganto. Osea, il orgoglio che non è possibile.